Quindi fammi capire, tu sei venuto in Italia, hai assaggiato la nostra cucina e poi hai pensato di aprire un ristorante italiano qui. Sì. E senti un po', come lo cucini questo spaghettino qui? Ah, faccieli. Prendi acqua, metti pasta, accendi fuoco, prendi minuta. Invece la facevo bollire, penso che è stronzo. Dopo volete altro? Sì, sì, un cacciavite e una scala. Ma cosa? Ma cosa fa? Ma cosa fa? Fa un gulasso, va bene? Tranquillo, tranquillo. Ma cosa fa? Non si scrive l'Italia in vano, vichingo, sei un vichingo. Ma cosa fa? No, scherzo no, no, no.